io non so che cazzo c'è sta gopro ciao a tutti questo è il mio primo vlog perchè ho avuto molti problemi nel fare vlog diciamo così perchè l'ultimo ho provato a farlo ieri e è successo che mi si è bloccata la gopro la registrazione tutto mi si è bloccato a caso perchè avevo la mia gopro ha qualche problema e ora la devo resettare ho avuto dei problemi nel registrare visto che io ho la gopro e lo sesso non ho il microfono cioè non si può comprare un microfono e quindi devo arrangiarmi con le cuffie solo che molto spesso sentiva male l'audio e allora non potevo cioè non mi andava di mettere questi video così e quindi non ne ho mai fatto uno anche se ci ho provato tante volte io ho messo il 70 che aveva prima Ricky e abbiamo fatto uno scambio cioè io gli ho dato una cat race perchè quando ho comprato questo moto va sotto l'86 solo che l'ho grippato quindi gli ho dato la mia cat race in cambio di un top nero e del di un carburatore del 21 così ma c'è proprio la freccia attiva devo sistemare sti steli qua perchè mi vanno giù a pacco ogni volta che prendo una cazzo di buca e prendo di quelle botte spero di non finirla a benzina perchè non ho olio perchè praticamente ho tolto il miscelatore quindi cioè il miscelatore c'è ma non ci sono più i cavi attaccati niente merda il piede sul freno me lo scordo sempre figata ripennare è la cosa più importante il piede sul freno perchè se rischi per caso di ribaltarti non è il mio caso perchè non mi ribalterò quasi mai cioè anzi mai però se dovessi ribaltarti regalateli su troppo freno e torni giù subito si torna giù subito e con l'ultima cosa sul canale allora siamo tre persone a farlo eeeh allora sto video è finito spero vi piaccia ciao a tutti ci vediamo al prossimo video bella 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 Grazie a tutti.